Oggi, proprio oggi, Elgato Voice Focus diventa un plug-in. L'effetto che era all'interno del software di Elgato che potevi ottenere e utilizzare gratuitamente acquistando determinati prodotti di Elgato diventa acquistabile sul marketplace di Elgato e utilizzabile su qualsiasi software. In questo video ti faccio vedere degli esempi reali, anche abbastanza estremi, di utilizzo e ti dimostro quanto questo plug-in sia incredibile. Come ti raccontavo nell'introduzione, Elgato Voice Focus diventa plug-in, quindi puoi utilizzarlo su qualsiasi tipo di software, audio, video, di conferenze, cioè qualsiasi software, puoi acquistare sul marketplace di Elgato l'Elgato Voice Focus e utilizzarlo tranquillamente. Quindi non hai più bisogno di comprare i prodotti Elgato per utilizzare questa funzionalità. In questo video ti faccio ascoltare due file audio che ho già registrato prima con uno dei peggiori microfoni della storia dei microfoni, ovvero il Blue Yeti. Perché ho utilizzato quel microfono? Perché è uno dei peggiori. Quindi rappresenta, diciamo, un caso abbastanza estremo. Tu mi dirai, ma perché è uno dei peggiori? Allora, ho almeno 5-6 video dove te ne parlo, ma te lo riassumo brevemente, perché è un microfono molto vecchio, con una tecnologia molto vecchia, ed è un microfono USB di vecchia generazione, quindi con tutte le sue pecche, e in più un microfono a condensatore. Quindi, in ambienti non acusticamente trattati, dà il peggio di sé. Ti dicevo, l'ho utilizzato in due casi diversi che ti faccio ascoltare tra un attimo. In uno, ho utilizzato un generatore di white noise, quindi tramite il mio telefono ho trovato un generatore gratuito di white noise e c'è questo shh in sottofondo, fra un po' te lo faccio sentire, e ho registrato la voce. Nel secondo caso, sempre col Blue Yeti, ho aperto la finestra e c'era un martello pneumatico, un martello, una macchina che passava, delle persone che chiacchieravano. Quindi, diciamo, sono due scenari abbastanza estremi. Quindi, l'obiettivo di questo video qual è? È dimostrarti come questo strumento può essere utilizzato in casi così estremi, producendo un risultato ottimo. Quindi, nella tua situazione, dove spero tu non abbia casi così estremi, perché sennò ti conviene prima risolverli e poi registrarli, ti dicevo, nel tuo caso probabilmente farà un lavoro ancora migliore. Va bene? Allora, noi siamo dentro Reaper, perché è il software che utilizzo io, e ti voglio far ascoltare i due, spegniamo l'effetto, ti voglio far ascoltare i due casi che ho appena creato. Allora, il primo è quello del white noise. Ascoltiamo. Scusami se interrompo. Il white noise è un volume di circa meno 45 dB. Meno 45 dB vuol dire che è altissimo. Per quello, prima ti dicevo, spero che tu non abbia un caso così estremo, perché prima di utilizzare software ti conviene migliorare la situazione e poi tornare a registrare. Però ti volevo portare alla tua attenzione questa peculiarità di meno 45, circa, dB, che è veramente tantissimo. Senti. Fra un po' inizia la voce. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare, con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno, un podcaster affronta una sfida unica, una corsa contro il tempo e contro se stesso, per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. C'è ancora rumore? Ok. Allora, come al solito io mi dimentico di dirtelo, ma metti le migliori cuffie che hai a disposizione. Se non hai delle cuffie decenti, fatti una domanda. Perché non hai ancora comprato un paio di cuffie decenti? Sul mio canale trovi dei video dove ti consiglio le cuffie che costano anche 35 euro, quindi niente, e sono migliori degli auricolari del telefono, sono migliori delle cuffie per ascoltare musica che hai a casa. Quindi, se non hai delle cuffie decenti, qualsiasi video che parla di audio non lo riuscirai mai ad ascoltare al meglio e quindi non capirai quello che uno ti sta raccontando. Chiusa parentesi. Quindi, indossa le migliori cuffie che hai a disposizione e riascolta, per favore, da quando ho premuto play prima. Allora, abbiamo detto un volume di meno 45, più o meno di gain. Ok, allora io ti faccio vedere adesso l'interfaccia del voice focus, che è questa. È un'interfaccia abbastanza scherzosa perché fondamentalmente, come vedi, è questo. Cioè questa pallina che tu puoi spostare a destra e a sinistra, tra weak, debole e strong, forte. Ok, così lo attiviamo, così lo disattiviamo e possiamo andare a giocare con questa pallina. Io non sono un fan di queste animazioni, però mi rendo conto che il gato qualcosa doveva andare a inserire, perché se no era semplicemente questa pallina che si muoveva su questa linea orizzontale. Allora, ti faccio sentire il suono precedente. Aspetta, te lo sistemo già al massimo e lo disattivo. Come vedi, guarda, l'animazione è questa. Quando io sposto da destra a sinistra, cosa succede? Che qui il microfono è molto lontano da te e ci sono tutti i rumori. Quando io lo muovo, guarda, tu e il microfono in teoria vi state allontanando dalle fonti di rumori. E quindi in teoria vuol dire che si dovrebbe sentir meglio, perché è su strong. Allora, ascoltiamo, ti faccio sentire senza, soltanto la parte introduttiva. Senti questo rumore fastidioso? Ok? Adesso metto al massimo. Tu dirai, perché metti al massimo? Metto al massimo perché ho fatto già dei test e siccome è una situazione molto estrema, va messo al massimo. Però dopo te lo faccio sentire sulla voce per farti ascoltare come non c'è nessuna differenza. Prova ad ascoltare. Senti, adesso ascolterai solo silenzio e dirai, Ale, ma hai premuto play? Sì, ho premuto play. Ascolta. Lo tolgo? Lo metto? La voce. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare. Lo tolgo. La voce è ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno senti come, scusa mi si interrompo, senti come elimina qualsiasi rumore lasciando la voce quasi intatta. Dico quasi perché questo plugin è settato al massimo. Ora, non dovresti settarlo al massimo perché se lo setti al massimo vuol dire che ci sono problemi che devi risolvere. Io ti consiglio di usarlo al massimo a metà. Se a metà hai ancora problemi vuol dire che devi prima risolvere i problemi e poi usare questo plugin. Ok? Io sto facendo, lo ripeto, una casistica estrema, due casistiche estreme e quindi per questo vado al massimo. Però non andare oltre metà. Non perché la voce si deteriori. Come hai sentito, soprattutto se hai un buon impianto e delle cuffie decenti, ascolterai una leggerissima, leggerissima differenza. Che è quasi impercettibile. Ok? Se non hai cuffie decenti, non te ne accorgi proprio. Ok? Quindi ti faccio risentire alternando con e senza. Senza. Pazzesco. Con. Il silenzio. La voce? Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare. Con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che hai bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcaster affronta una scheda unica. Una corsa contro il tempo e contro se stesso per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Senti che casino. Non c'è più. Ok? Questo è il primo caso. Ok. Il secondo caso invece è lo iedi con la finestra aperta. Quindi con tutto quello sono stato fortunato in questo caso perché ho trovato un sacco di rumori mentre ti facevo questo video. Quindi ti faccio ascoltare il suono pulito. Senti persone che parlano. Un martello pneumatico. Una macchina che passa. Senti? E nella parte finale Continuo a esserci un martello pneumatico. Un martello. Vivo in un posto silenzioso. E tu mi dirai Ale ma come fai a fare video in un posto così? Allora innanzitutto non è che lavorano 24 ore su 24 ma ho trattato acusticamente la mia stanza. Ok. Allora proviamo ad ascoltare e attiviamo e disattiviamo l'effetto. Così è disattivo. Così è attivo. Non c'è più niente. Disattivo. Adesso arriva la macchina. Senti? Senti la macchina? Attiviamo? Non c'è. La voce. Immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare con la voce ancora rauca dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico. Ogni giorno un podcast raffronta una sfida unica una corsa contro il tempo e contro se stesso per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere ascoltato. Senti? Finito. Ora ti faccio sentire una cosa. adesso provo a portare al minimo e ti faccio sentire metto in loop questa parte in modo che tu possa sentire adesso al minimo ora aumento piano piano i rumori continuano a sentirsi sta diminuendo il volume però sono a metà e già si sentono infinitamente più bassi aumento sto cercando il punto dove non li sento più forse qui potrei non andare al massimo ma andare qui provo a togliere il loop proviamo a ascoltare sulla voce immagina di svegliarti ogni mattina con una nuova storia da raccontare con la voce ancora raga dal sonno e l'idea che ha bisogno di essere scolpita nella mente del tuo pubblico ogni giorno un podcaster affronta una sfida unica una corsa contro il tempo e contro se stesso per dare vita a qualcosa che valga la pena di essere non c'è tanta differenza quindi vuol dire che questo plugin è veramente trasparente ora ripeto se metti delle cuffie super professionali super lineari eccetera ti renderai conto che è leggermente più ovattato al massimo ma questo plugin non lo devi usare al massimo perché ripeto se lo usi al massimo vuol dire che ci sono problemi gravi nella tua stanza e vanno prima risolti quei problemi e poi utilizzato questo plugin bene credo di averti raccontato abbastanza e soprattutto di averti fatto ascoltare abbastanza di questo plugin ti lascio il link in descrizione per poterlo acquistare mi raccomando acquistalo perché è pazzesco ringrazio ovviamente i ragazzi di Elgato che mi hanno dato la possibilità di provarlo in anteprima di testarlo e di poter fare questo video se hai dubbi domande e curiosità commenta altrimenti noi ci vediamo settimana prossima grazie